La coppia storica del Trono Over Le ultimissime sulla coppia arrivano dalla rivista Nuovo TV, che proprio questa settimana ha sfornato il colpaccio, rivelando che tra i due protagonisti del Trono Over potrebbe esserci al più presto un netto riavvicinamento e quindi un ritorno di fiamma e stile Giorgio Manetti spiazza Gemma Galgani, come te non c'è nessuno. Nel dettaglio, infatti, si legge che Giorgio Manetti ha capito una volta per tutte che la Galgani è la donna giusta per lui C'è qualcosa di speciale tra noi, ha dichiarato il Cavaliere Toscano in una delle sue ultime interviste, ribadendo che tra lui e Gemma c'è un grande feeling e che difficilmente potrà trovare una donna che sappia prendere il suo posto Giorgio, infatti, non ha avuto problemi nel dire che Gemma è una donna speciale e sa bene come meravigliare e rendere felice un uomo Al tempo stesso, però, il Gabbiano non ha nascosto il suo dispiacere quando tre anni fa la Galgani scelse di interrompere questa relazione e di voltare pagina definitivamente senza dare neppure una spiegazione logica al Cavaliere che sveva intenzione di abbandonare lo studio di uomini e donne con lei Non si è fatta attendere la reazione di Gemma, la quale in un'altra intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha confermato il rapporto speciale con Giorgio e al tempo stesso ha ammesso che sarebbe stato un grande peccato mollare tutto in questo modo Maria De Filippi sarebbe l'artefice del ritorno di fiamma tra Gemma e Giorgio. E a quanto pare non sarebbe ancora finita del tutto Il settimanale Nuovo TV, infatti, ha pubblicato questa clamorosa indiscrezione sul possibile ritorno di fiamma in corso tra i due protagonisti del trono Homer, precisando che l'artefice di questo riavvicinamento sarebbe stata Maria De Filippi, colei che li ha fatti incontrare ed innamorare all'interno del suo studio televisivo Nel caso in cui l'operazione dovesse andare in porto, sarebbe sicuramente un gran bel polpaccio per la prossima edizione di Uomini e Donne La presenza della coppia Gemma e Giorgio, infatti, continuerebbe ad assicurare ascolti elevatissimi, proprio come è già successo quest'anno, quando la media del dating show ha spesso superato la solla del 25% di share durante gli appuntamenti del trono Homer La presenza della coppia Gemma e Giorgio